Partita la prima batteria di serie finale, le prime due accedono alla finale ed è Negri che si porta in testa seguita da Terosa Negri, Terosa Piondi ancora Terosa, Negri, Terosa, Negri, Negri e Terosa partite ed è Falco della priazza in line che si è portata in testa davanti a De Gianni Falco, De Gianni, poi Campitelli Ancora in testa Falco, la prima batteria della priazza in line, le prime due, il finale ed è Falco e De Gianni